E' finito in modo tragico il capodanno per un gruppo di giovani sulla strada del rientro verso casa. Erano le 3.30 della scorsa notte quando in un violento incidente sono morti due giovani, 11 feriti nel tratto di autostrada A4 posta tra i caselli di Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Due ragazze morte e 11 feriti. Il bilancio del drammatico schianto avvenuto nella notte lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra i caselli di Dalmine e Bergamo. Erano le 3.30 di sabato 1 gennaio quando lungo la corsia in direzione di Venezia ancora in territorio di Dalmine al rientro dopo i festeggiamenti di Capodanno perdevano la vita Patrizia Paninformi 23 anni di San Giovanni Bianco e Chiara Varani pure 23enne di Endine. Stando ad una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto da parte degli agenti della polizia stradale di Seriate sembrerebbe che la Ford K con a bordo tre giovani bergamasche e due delle quali decedute mentre procedeva in direzione Bergamo sia stata tamponata da una Fiat Punto condotta da un 38enne di Camisano Vicentino. Nel violento impatto la K finiva ribaltata mentre la Punto veniva tamponata da una Mercedes. Mentre gli occupanti della Fiat riuscivano a liberarsi dalle lamiere del mezzo incidentato sopraggiungeva un'altra Mercedes condotta dalla Tarantino Massimo Carrera che non avrebbe potuto evitare la violenza dell'impatto in quanto la visibilità non lo permetteva e le auto che lo precedevano avevano motori e fari spenti. Uno scenario raccapricciante si presentava ai soccorritori che procedevano al ricovero presso le strutture ospedaliere di Seriate, Zingonia e Bergamo. Tra i feriti oltre a Carrera anche la moglie che ha perso alcune fanaggi delle tre dita e ne avrà per 30 giorni. Dai primi test effettuati dalla polizia stradale alcuni conducenti sarebbero risultati positivi all'etilometro.